Non odio nessuno, ma chi sbaglia deve pagare. Così Alma Petri, la vedova di Emanuele Petri, ucciso dalle Brigate Rosse il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze. Oggi cerimonia commemorativa a Castelfiorentino. E da Castelfiorentino ci riferisce Laura Passetti. Un giorno molto importante, molto importante perché ho ancora negli occhi quello che accadde quella mattina. Perde la vita Emanuele Petri, il collega fortunato viene ferito, ma si riesce a catturare due pericolosissimi brigatisti, i capi delle nuove BR. A Castelfiorentino questa mattina con una cerimonia si è ricordato il sacrificio di Emanuele Petri, sovrintendente della polizia ferroviaria, eroe moderno, uomo coraggioso in divisa. 20 anni fa, il 2 marzo 2003, sul treno interregionale Roma-Firenze, fu colpito a morte dall'arma di Mario Galesi delle nuove Brigate Rosse. Fu alla stazione di Castelfiorentino che il treno si fermò per permettere i soccorsi ai feriti e alle forze di polizia di portare via la complice di Galesi, Nadia Lioce. Quel giorno segna una svolta investigativa perché poi vengono raccolti dei dati che consentiranno proprio la disarticolazione completa delle BR. Con il capo della polizia Lamberto Giannini e anche il sindaco di Castelfiorentino, il questore, il prefetto di Arezzo e il sottosegretario agli interni Nicola Molteni, insieme per onorare Petri e ringraziare la vedova Alma. Come se fosse successo ieri, ero frastornata, poi però ho preso coscienza di quello che era successo e di quello che è stato fatto nei mesi successivi grazie a dei ragazzi meravigliosi che hanno dato un senso alla morte di Emanuele. In questi vent'anni Alma si è dedicata a parlare ai ragazzi perché la memoria serve a non ripetere gli stessi errori e proprio da Castiglion Fiorentino deve ripartire un messaggio, ha detto il sottosegretario Molteni. Il messaggio che oggi noi lanciamo da qua è proprio il messaggio che lo Stato non fa passi indietro, lo Stato non si fa intimidire dalle minacce di chi vuole mettere in discussione quei principi democratici che si sono duramente conquistati e che noi dobbiamo difendere.